E ci siamo guadagnati questa semifinale playoff, io sono Faraone Rosanero e grazie di aver atteso il mio commento anche se come al solito spesso, al solito spesso, a qualche volta arriva in ritardo, non è che arriva sempre in ritardo ma a volte sì perché come vi ho spiegato purtroppo tra il lavoro e altre menate non sempre riesco a essere lì a fare il video immediatamente ma eccomi qua perché so come al solito che c'è qualcuno che mi aspetta e io vi ringrazio tantissimo. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dal fatto che è stata una partita sorprendente, il Palermo era quasi riconoscibile, è sorprendente ma fino a un certo punto perché comunque sappiamo bene che i playoff, essendo un campionato completamente isolato, a parte nuovo con regole dinamiche diverse, poteva essere un trampolino per un recupero delle motivazioni io capisco anche chi mi dice, vabbè mi fa rabbia perché avrei voluto vedere questo atteggiamento anche il campionato ma purtroppo questo atteggiamento è arrivato adesso proprio perché i playoff hanno questa sorta di magia particolare che può fare resuscitare anche i calaveri tra virgolette e lo abbiamo visto ieri, poi ci sarà anche del merito da parte di Mignani che ha lavorato in queste 6-7 settimane proprio in vista di questa partita immagino anche il suo lavoro magari è stato improntato su questo, ha fatto tanti esperimenti ieri la formazione è stata anche abbastanza sorprendente per l'insigne dietro le due punte con Ranocchia spostato dietro con Gomez in panchina ma c'era anche da dire che era una partita potenzialmente lunghissima si poteva arrivare ai tempi supplementari ed era necessario avere le forze e dei cambi adeguati anche nel secondo tempo delle armi, degli assi da giocarci e anche nel secondo tempo poi ricordatevi che anche superando il turno si gioca dopo tre giorni insomma c'era da gestire anche delle forze fisiche oltre che mentali la partita di ieri è iniziata in maniera straordinaria abbiamo visto un Palermo che ci ha messo subito tutta una foga importante una pressione importante, si vedeva che ci tenevano abbiamo fatto subito quella doppia rovesciata meravigliosa la Holly e Benji straordinaria dal punto di vista stilistico e spettacolare detto questo io dicevo ok iniziamo così poi verrà che ci sarà un calo perché chi inizia così è di solito la squadra che ha subito qualcosa da voler dimostrare qualcosa da volessi fare perdonare qualcosa da volerti dar fuori e poi magari di solito ciclicamente c'è un calo mostruoso io avevo paura che il Palermo potesse poi calare durante la partita c'è da dire che il primo tempo è stato proprio veramente giocato bene ci sono state un sacco di occasioni quella di purtroppo Insigne si è mangiato di tutto ecco quando sei lì davanti alla porta la porta la devi prendere la porta la devi prendere però io su Insigne voglio dire una cosa rispetto a tante altre partite è stato pericoloso rispetto a tante altre partite ragazzi io non sono d'accordo con chi mi dice che è negato che è scarso che non sa giocare ragazzi è stata una stagione sicuramente non all'altezza di Insigne ma questo giocatore ha già dimostrato nella sua carriera di essere un calciatore diverso da quello che stiamo vedendo adesso e io fino all'ultimo spero sempre che venga fuori la giocata che ci permetta anche se fosse un gol anche se fosse un assist perché la tecnica ce l'ha di aiutarci ad andare in finale e vincere questi playoff perché lui può essere utile perché è bravo è bravo non è che è una pippa magari non è un campionissimo ma ha dimostrato di essere bravo ieri purtroppo a un certo punto poi è scivolato ma è scivolato anche Brunori nel secondo tempo vi ricordate? insomma può capitare a Brunori e capita anche a Insigne purtroppo si è mai poi è attiato alto quella da fuori aria un po' frettoloso quel tiro Soleri ha avuto quell'occasione di testa il Palermo ha macinato tante occasioni nel primo tempo la Sampdoria non si è vista se non per quella mezza occasione di di Borini che si è liberato bene ma non è riuscito nemmeno ad andare in porta poi è successo il risveglio non il risveglio perché non si è mai addormentato è proprio che c'è stata l'esplosione di Diachite perché ricordiamoci che Diachite aveva già segnato tre gol con la Ternana ne aveva fatto uno col su Tirol e col Palermo e ne ha fatti due doppietta ragazzi doppietta di Diachite ed è stato una cosa bellissima perché lui si vede che è uno di quelli che ci tiene di più è uno di quelli che ha un fiuto del gol quasi alla Pippo Inzaghi ragazzi ha fatto due gol il primo simile più o meno a quello del su Tirol tra virgolette perché era lì si trovava lì la palla gli era riuscita sui piedi e ha tirato a segnare ma quello il secondo quello subito inizio secondo tempo è stato veramente un gol da attaccante alla Pippo Inzaghi proprio davvero c'è un attaccante col fiuto del gol ragazzi è una roba impressionante il gol da esterno alla Gasperini l'unde che crossa per gli Achite insomma fra l'altro nel primo gol il calcio d'angolo se l'è guadagnato lui ed era stato criticato perché invece di crossare aveva tirato da quel tiro è nato il calcio d'angolo e il calcio d'angolo poi è nato il gol tra virgolette perché poi c'è stata il cross di Brunori insieme quindi insomma è stato un 1-2 subito fine primo tempo inizio secondo tempo che ha proprio dato il colpo di grazia alla Sampdoria ovviamente il Palermo ha avuto un attimino di gestione nella partita ci può stare e la Sampdoria ha cercato ha provato a fare qualcosa c'è stato purtroppo anche l'infortunio di Cercaroni è entrato Marconi ecco io voglio dire una cosa perché ho sedito già gente che allora io faccio una premessa io sono felicissimo di come sono iniziati questi playoff la singola opinione che io ho dei giocatori della squadra di come sarà costruita di come sarà guidata nella stagione regolare in cui ricordiamo siamo arrivati sul campo per punti fatti settimi dietro la Sampdoria per punti fatti ecco la mia opinione non cambia non cambia perché per me il campionato è chiuso e si è chiuso anche tutto il mio giudizio su quello che è stato quel campionato allora si è aperto si è aperto un nuovo campionato nuovi giudizi nuovi pareri nuove come possiamo dire nuove motivazioni cioè è tutto un'altra cosa quindi adesso non è che mi vengono a dire guardate avete offeso Marconi avete offeso ieri hanno dato l'anima ieri Marconi è entrato e si è fatto trovare pronto complimenti ma non è che adesso dobbiamo fare il paragone con quello che è successo in campionato oh ieri ieri ai playoff bellissimo perché comunque ci ricorda i playoff di due anni fa in cui Marconi si è stato determinato ieri si è fatto trovare pronto certo si è fatto trovare pronto cioè non è che ha fatto la partita dell'anno complimenti comunque il fatto che è lì e ci tiene tanti ecco su una cosa non si può discutere Marconi ci tiene tantissimo al Palermo e ci tiene quello lo dimostra tutte le volte così come Soleri da questo punto di vista sui senatori sul quanto che ci tengano non si può dire niente e se io devo dire la verità se io io ero uno di quelli che diceva che era d'accordo sull'accessione di Valente ma se poi devi scegliere Valente e prendere Ciacatrona e a questo punto forse non è meglio tenersi valente dico solo questo comunque ieri quello quindi complimenti a Marconi che si è fatto trovare pronto speriamo però torni Ciacatroni la prossima torna nel Cearo che era squalificato poi è entrato Gomez sono stati dei cambi Henderson di Francesco Mancuso sono entrati un po' in tanti Segre partita mostruosa veramente mostruosa ci tiene tantissimo anche lui ma lui sin dal primo giorno che ha messo piede a Palermo abbiamo visto che ci teneva Brunori ha fatto diciamo non ha segnato ma comunque si è mostrato ha giocato in questo ruolo da un po' da falso 9 ieri ha fatto un'azione bellissima nel secondo tempo perché meritava i gol il Palermo in generale meritava il 3-0 ieri siamo stati un po' troppo spreconi nelle ripartenze questa cosa mi è dispiaciuta non deve dobbiamo cercare di essere più cinici quando si tratta di ripartire e chiudere la partita ecco su quello stiamo crescendo e magari arriverà io voglio fare anche complimenti non solo alla squadra per la partita di ieri perché è stata una partita importante ecco forse qualche ammunizione di troppo ragazzi ricordiamoci che le ammunizioni pesano una ammunizione sei già in diffida e le ammunizioni di De Plancho e Lunde ieri sono state stupide ammunizioni stupide che rischiano di compromettere il tuo percorso in questi playoff quindi occhio detto questo una sampedoria sotto tono non me l'aspettavo così sotto tono è forse anche in merito del Palermo un pubblico meraviglioso 32.000 33.000 spettatori adesso non ricordo quanti eravamo il pubblico ha dato il suo supporto Palermo da questo punto di vista quest'anno non è mai mancata Palermo ha sempre fatto il suo dovere nessuno può muovere una sola critica a questo pubblico quest'anno perché è stato il pubblico più presente forse appena dopo la sampedoria adesso non ricordo quindi un pubblico straordinario quindi nulla da dire sia in casa che in trasferta quindi ci sono tutte le premesse c'è tutta la ricetta per fare bene in questi playoff tutta la ricetta allora andiamo a giocare cioè la ricetta ce l'abbiamo abbiamo i giocatori abbiamo delle buone individualità e se diventano sanno inventarsi squadra così in emergenza come hanno dimostrato ieri potremmo vedere qualcosa di buono io comincio a crederci certo il Venezia non è la sampedoria adesso c'è Palermo-Venezia lunedì poi Venezia-Palermo ritorno venerdì partita difficilissima abbiamo anche lo sfavore della classifica ma ma attenzione perché il Palermo è una squadra tutt'altro che scontata e Mignani potrebbe giocarsi come ieri delle sorprese che magari non ci aspettavamo nel lavoro che ha fatto quindi occhio al senso di Rimicida anche di Mignani che ditemi la vostra cosa ne pensate se non vi siete iscritti iscrivetevi mettete mi piace se non vi è piaciuto se non vi è piaciuto mandatemi a fanculo vedete voi se non vi è piaciuto non vi è piaciuto ci sono